Sono qui con Marco di B-Comedy e oggi gli faccio il secondo gioco della sua vita. Sei pronto? Vai. Allora, prendiamo un mazzo di carte, ti faccio controllare il mazzo, farlo vedere anche al pubblico a casa. La scatoletta la lascio un attimo qui, non ci serve. Perfetto. Ora, mescoliamo il mazzo di carte, dovrai sceglierne una e farla vedere a tutti quanti. Sei pronto? Dimmi stop in un punto qualsiasi. Stop. Stop qui, sotto al jack. Prendi la carta, farla vedere anche in video. e nascondila dove vuoi in mezzo al mazzo. Perfetto. Lascio qui. Ora, attenzione perché facciamo vedere al pubblico cosa c'è dentro a questa scatoletta. Ci entro qualcosa? Ok? Hai una torcia del telefono da qualche parte? Sì. Ok? Illumina praticamente l'interno di questa scatola. Ok? Facciamo uno zoom. Guarda qua in alto, guarda qua in alto. Uno, due, tre. Appare il 5 di cuori ed è proprio dentro. Ma non è vero. È vero, è vero, è vero. Seguite B-Comedy UK! Spiegatemi. Grazie, grazie, grazie Marco.